Buongiorno a tutti e bentornati nella congrega del terrore Continuiamo a parlare di Nightmare e di Freddy Krueger Abbiamo già spulciato bene quelle che sono le vere storie cui si è ispirato Wes Craven per la saga di Nightmare o meglio per il primo Nightmare, Nightmare on Elm Street e poi anche la vera storia di True Crime cui si è ispirato per i suoi omicidi Perciò ora quello che ci resta è indagare che cosa dice la scienza, che cosa pensa la scienza per quanto riguarda queste misteriosi morti del sonno e per quanto riguarda gli incubi Mi scuso se ho ancora un po' la voce nasale ma come saprete settimana scorsa ho avuto l'influenza e quindi ho ancora un po' di postumi Se vi ricordate nel primo video, se non l'avete visto ve lo lascio qui da qualche parte o comunque lo trovate qua sotto in descrizione potete recuperarlo tranquillamente anche alla fine di questo video Vi dicevo che per quanto riguarda la creazione l'idea che Freddy Krueger, che questo mostro potesse uccidere negli incubi deriva da dei fatti di cronaca che effettivamente erano successi agli inizi degli anni Ottanta negli USA Nello specifico nel 1981 iniziano a circolare delle notizie e degli articoli che riguardano delle improvvise morti nel sonno che colpivano principalmente degli immigrati laotiani di etnia Hmong e di fatti venivano riportati una ventina di casi di giovani apparentemente in salute e senza alcun problema che improvvisamente morivano mentre dormivano Quello che raccontavano appunto queste persone erano di incubi spaventosi, terrificanti al punto di cercare di non andare a dormire proprio per paura di fare questi incubi, di sognare e infatti molti cercavano di rimanere svegli il più possibile e poi quando sfiniti cadevano nel sonno si addormentavano morivano misteriosamente e anche i medici che sono riusciti a fare le autopsie non hanno riscontrato assolutamente nulla sembrava non ci fosse alcun problema soltanto più recentemente è stato ipotizzato che ci potesse essere un collegamento con una sindrome cardiaca che è la sindrome di Brugada che è una delle malattie principali che provocano appunto queste morti cardiache improvvise nonostante comunque non sia una sindrome così comune e come vi dicevo sempre nel primo video naturalmente tutti questi fatti sono stati studiati dalla scienza gli scienziati si sono interessati per cercare di venirne a capo e di capire di che cosa si possa trattare quali possono essere le cause di queste morti improvvise che a quanto pare colpiscono principalmente le persone asiatiche di fatti nel 1987 è uscito uno studio che riguarda proprio questi morti queste persone di etnia Hmong che misteriosamente morivano perché non succedeva soltanto negli Stati Uniti ma anche in Asia nello specifico in Thailandia infatti questo studio si concentra principalmente su un campo profughi che si trova in Thailandia e nel quale risiedono la maggior parte appunto di questa popolazione ci sono, si stimano, circa un 30.000 rifugiati Hmong proprio in questo campo profughi le vittime riscontrate sono principalmente maschi quindi giovani uomini di età media intorno ai 33 anni che a quanto pare morivano dopo pochi minuti dall'inizio dei sintomi abbastanza acuti tra cui anche il respiro agonico penso si chiami così è quel respiro particolare che precede un arresto cardiaco e secondo poi gli studi successivi le cause della morte sembrerebbe essere stata una fibrillazione ventricolare nonostante non ci fossero problemi cardiaci il picco di queste morti si è registrato tra il 1981 e il 1982 e i numeri, i dati sono veramente importanti nel senso che per quanto riguarda proprio l'etnia Hmong si stima sia il 92 su 100.000 persone quelle che effettivamente muoiono nel sonno misteriosamente mentre per altre etnie sempre laotiane siamo sugli 82 ogni 100.000 e su 59 ogni 100.000 per quanto riguarda invece i cambogiani ma come vi dicevo comunque questi sono dei casi che si sono registrati bene o male in gran parte dell'Asia si sono registrati nelle Filippine si sono registrati in Giappone in Cina insomma un po' ovunque tant'è che anche nelle varie culture è stato dato un nome a questi strani eventi ad esempio nelle Filippine si parla di Bangungut che significa alzarsi e lamentarsi nel sonno infatti in letteratura si ritrovano dei casi risalenti al 1917 ma comunque l'ONU medical examiner ha registrato una cosa come 81 casi simili tra il 1937 e il 1948 quindi insomma sono delle situazioni che non sono nuove degli anni 80 ancora in Giappone si parla di pokuri cioè casi di morte improvvisa e inaspettata e anche in questo caso vengono registrati fin dal 1959 ma comunque il Tokyo medical examiner registra più di centinaia di casi all'anno di morte improvvise durante il sonno e infine anche proprio in Thailandia si parla di Lai Thai e cioè di morte durante il sonno in ogni caso in questo studio di Ronald G. Munger appunto del 1987 sono stati studiati questi casi questo campo profughi tailandese in cui c'era una grande presenza di popolazione Hmong che sembra essere quella maggiormente colpita come appunto abbiamo visto anche dai dati che cosa hanno studiato? Allora hanno rilasciato dei questionari da dare principalmente ai parenti delle vittime ma come hanno deciso chi studiare? Allora si sono basati su tutte quelle persone che hanno sviluppato dei sintomi e che sono morti entro le 24 ore ovviamente durante il sonno dall'insorgenza di questi sintomi acuti quindi se passavano più di 24 ore non venivano prese in considerazione così se la morte avveniva in stato di veglia quindi non mentre dormivano perciò insomma è stata fatta una selezione iniziale e sono stati dati appunto dei questionari per cercare di capire quali potessero essere le concause o le situazioni comuni insomma queste persone che potessero dare una dritta per cercare di capire che cosa stesse succedendo qual è il problema? Allora il problema di questo tipo di studi è che la religione Hmong non accetta ad esempio che vengano fatte delle autopsie perché naturalmente immagino la domanda forse sorgesse spontanea a questo punto chiedersi come mai non si sono fatti degli studi delle autopsie insomma su questi corpi, su questi morti per cercare di capire quale potesse essere la causa della morte o perché non sono state fatte altre analisi la risposta è questa quindi a questo punto l'unica soluzione che si sono ritrovati era quella di intervistare quindi i parenti o i vicini insomma di queste vittime per cercare di capirne le abitudini e gli eventuali sintomi per quanto riguarda invece i casi di morte in America lì probabilmente la legge è diversa e quindi sono riusciti a fare delle autopsie che però hanno rivelato un nulla di fatto in totale sono state studiate 27 morti delle quali 16 rientravano in queste morti improvvise inaspettate durante il sonno di giovani apparentemente in salute le altre 11 invece sono state escluse perché avevano presentato dei sintomi gravi prima delle 24 ore precedenti alla morte quindi si vede che due giorni prima o tre giorni prima avevano iniziato a star male quindi non erano soggetti in salute oppure non c'erano sufficienti informazioni per poter delineare insomma un caso o ancora queste morti non sono avvenute appunto mentre dormivano di queste 16 persone 12 erano maschi e 4 femmine e sul totale 3 persone sembrano essere morte effettivamente all'improvviso cioè senza aver dato alcun segnale in precedenza mentre 13 persone sono morte a pochi minuti di distanza da alcuni segnali come ad esempio oppure appunto come vi dicevo questo respiro agonico quindi questo respiro molto particolare oppure una sorta di agitazione diciamo che indicativamente la morte arrivava a distanza di 10 o 30 minuti dall'inizio di questi sintomi ma non è finita perché un fatto che ho trovato molto interessante è che a questi 16 casi poi se ne sono aggiunti degli altri che riguardavano delle parentele molto strette con le vittime come potevano essere il nipote o la figlia mentre per quanto riguarda i controlli perché naturalmente sono stati selezionate diverse persone quindi anche persone alle quali poi di fatto non è successo nulla quindi che non sono morte e per quanto riguarda le famiglie che non hanno avuto dei decessi appunto durante questo studio non hanno avuto neanche decessi per quanto riguarda i familiari quindi insomma ci sono stati proprio dei nuclei familiari che pare siano stati colpiti maggiormente perciò pareva ci fosse una particolare sindrome che colpisse principalmente la popolazione del sud-est asiatico che poi trasferitosi in america veniva colpito ulteriormente la cosa interessante è che venivano colpite le persone che si erano trasferite da poco mi spiego meglio pare che più tempo queste persone comunque trascorrevano nella loro nuova casa quindi in america e meno c'era la probabilità che potessero morire improvvisamente del sonno mentre venivano colpite da tutte quelle persone che arrivavano nel nuovo paese da poco tempo per quanto riguarda le autopsie svolte negli Stati Uniti su 49 casi che sono stati indagati in 45 non c'era presenza o proprio minima di arteriosclerosi coronaria che comunque non ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda una morte cardiaca improvvisa in due casi è stato riscontrato qualcosina e in due è stato riscontrato acuto ma appunto non ha alcun ruolo per quanto riguarda questo tipo di morte mentre per quanto riguarda trombi oppure infarti del mio cardio non è stato registrato assolutamente nulla in nessuno dei 49 casi che sono stati indagati perciò diciamo che in generale la comunità scientifica si è direzionata principalmente nel cercare delle corrispondenze con altre sindromi cardiache e più recentemente come vi dicevo anche all'inizio si è pensato che si potesse trattare di una sorta di sindrome di brugada che colpisce principalmente le persone europee e su questo caso se ne è studiato nel 2002 in questo articolo che è stato svolto in collaborazione con più centri con più università da quelli degli USA alla Spagna alla Thailandia questo studio andava appunto ad indagare se ci potessero essere delle corrispondenze a livello genetico per quanto riguarda queste morti improvvise e nello specifico appunto la sindrome di brugada comunque tutti questi articoli ve li lascio qua sotto in descrizione in caso vogliate leggere e approfondire maggiormente questi argomenti questo perché apparentemente ci sono delle similitudini a livello clinico per quanto succede appunto in queste morti nel sonno improvvise e quanto accade nelle morti di quelle persone che appunto soffrono di questa sindrome perciò sono state fatte appunto delle analisi a livello molecolare e è stato ritrovato che in entrambi i casi c'è una mutazione del gene lo leggo perché non ce la posso fare SCN5A non so se si legge così spero di sì comunque ve lo lascio scritto qua sotto ma cerchiamo di capire meglio insieme che cosa è saltato fuori da questo studio io cercherò di essere il più chiara e comprensibile possibile nonostante sapete anche voi che comunque non è il mio campo di studi perciò spero di riuscire a farmi capire e spero anche di aver capito giusto in poche parole le morti cardiache improvvise di solito sono a carico di delle aritmie ventricolari che sono caratteristiche appunto della sindrome di Brugada e della sindrome d'acuti lungo che è una condizione in cui il cuore impiega più tempo a rilassarsi tra un battito e un altro e come vi dicevo anche in questi casi di morti improvvise durante il sonno erano caratterizzate dalle aritmie ventricolari ma avevano anche un altro fattore in comune proprio con la sindrome di Brugada e cioè delle anomalie nell'elettrocardiogramma mentre con sia la sindrome di Brugada appunto che quella del cuti lungo avevano in comune il fatto che le morti avvenissero principalmente la notte durante il sonno e in più la mutazione di questo gene dell'SCN5A è stata ritrovata anche in pazienti che avevano entrambi le sindrome sia quella di Brugada che è proprio diciamo la caratteristica principale che anche la sindrome del cuti lungo perciò alla fine della fiera quello che si presuppone quello che si ipotizza è che queste morti inspiegabili che colpiscono la popolazione del sud-est asiatico possano dipendere da una variante di una di queste due sindrome principalmente di quella di Brugada o dell'unione delle due ma parlando di questa storia quindi parlando del mostro degli incubi perciò tornando a Nightmare insomma gli incubi ne fanno un po' da padrone quindi ora abbiamo parlato un pochettino di quello che poteva essere la vera storia e che cosa ne pensa la scienza per quanto riguarda l'ispirazione di Wes Craven ma andiamo un po' più nel dettaglio parliamo un po' più di incubi di ansia e di infarto del mio cardio perché è stato fatto uno studio nel 2011 questo è uno studio se non sbaglio turco comunque lo trovate sempre qua sotto in descrizione che mette in relazione l'ansia con una maggiore predisposizione ad avere un infarto del mio cardio durante la notte quindi l'ansia più che altro l'ansia di dormire quindi un riposo poco qualitativo quindi scarsa qualità del sonno insomma e appunto infarto perché però si è arrivato a studiare questa cosa cioè perché uno è venuto in mente che queste due cose possano essere correlate perché l'incidenza di infarti non è uguale per tutte le 24 ore ma si riduce notevolmente durante il sonno perché quando si dorme la pressione sanguigna comunque si abbassa quindi ci sono meno in generale meno condizioni meno situazioni che possono portare ad un infarto ma dall'altra parte ci sono dei casi sono un 10 un 25 per cento di pazienti di persone che invece tendono ad avere degli infarti proprio durante il sonno e l'ipotesi di tutto questo risiede nella fase REM quindi in quella fase dei movimenti rapidi dell'occhio quindi il momento in cui sopraggiunge anche il sogno e perciò come un sogno come un incubo possa in realtà fare da deterrente per episodi di questo tipo questo perché proprio in questa fase i sogni appunto diventano più vividi perciò ci ci lasciamo anche maggiormente condizionare da quello che stiamo sognando ci facciamo trasportare quindi può anche aumentare il battito cardiaco perché nel caso degli incubi ad esempio questo può portare anche a profondo stress e quindi tutti questi discorsi qua possono causare anche degli infarti notturni perciò ipocondria c'è l'ascolto forse vi conviene saltare questa parte perciò questo studio riguarda proprio questa correlazione ed è stato svolto nell'arco di 18 mesi a partire da luglio del 2009 fino a gennaio del 2011 in Turchia fanno parte di questo studio tutti quei casi che hanno avuto appunto degli infarti del mio cardio durante la notte escludendo però tutti coloro i quali avevano anche una una diagnosi psichiatrica che potevano soffrire non lo so di depressione oppure che prendevano dei medicinali che andavano in qualche modo ad influire sulla psiche e che quindi potessero comunque indurre in qualche modo una scarsa qualità del sonno o che già alla base ci potesse essere una sorta di profondo stress e che quindi insomma le origini di questo stress di questi brutti sogni potessero essere di altra natura perciò lo studio si è basato su due gruppi sostanzialmente erano 36 persone che appunto avevano avuto un infarto del mio cardio durante la notte e poi un gruppo di 180 non mi ricordo 183 persone che invece l'avevano avuto durante la veglia e l'obiettivo era proprio quello di vedere le differenze e poter valutare l'incidenza dell'ansia e il risultato è sorprendente ma forse anche logico nel senso che tra i pazienti che hanno avuto infarto del mio cardio durante la notte si è registrato una più alta frequenza di incubi difficoltà poi a riaddormentarsi anche dopo un incubo oltre a iperattività continui incubi ricorrenti ansia anche durante il giorno problemi psicologici e anche un tipo di ansia durante il sonno che aumentava sempre di più e tutto questo era decisamente in contrasto con quanto invece rilevato dalle persone che l'infarto l'avevano avuto durante il giorno quindi mentre erano svegli perciò in conclusione questo studio effettivamente ha dimostrato un'associazione tra l'ansia e gli incubi e anche una maggiore incidenza di infarti del mio cardio e che quindi come l'ansia possa essere essa stessa un un fattore scatenante proprio questo tipo di problema ma ora ci pone ci arriva un altro quesito e cioè definire che cos'è un incubo in questo studio del 2018 fatto in Germania veniva sollevata una criticità per quanto riguarda la definizione di incubo e di brutto sogno perché la definizione era già stata data dalla classificazione internazionale dei disordini del sonno mi sono dimenticata di cercare la traduzione prima quindi se ne traduco letteralmente vabbè al massimo ve lo lascio scritto qua sotto e dal manuale diagnostico e statistico dei disordini mentali e definivano appunto gli incubi come dei brutti sogni effettivamente che però portavano un senso di minaccia un senso di paura un senso di pericolo anche per se stessi e questo lo specifico perché è molto importante perché poi lo vedremo con il corso di questo studio e che poi sia anche comunque un sogno che noi ricordiamo quindi qualcosa che in qualche modo ci rimane dentro e che ci infastidisce successivamente il termine incubo è stato associato a un disturbo d'ansia un'ansia da insonnia insomma penso sia questa la traduzione italiana di dream anxiety disorder e perché perché associavano appunto agli incubi quei sentimenti quelle emozioni principalmente di paura e di pericolo ma in realtà quello che solleva questo articolo è che ci sono anche altre emozioni che andrebbero riconsiderate nel momento in cui si definisce un incubo perché ci sono anche tutte quelle emozioni come ad esempio il disgusto come ad esempio la rabbia che dovrebbero essere considerate perciò in questo studio sono stati analizzati i temi principali degli incubi senza però dare alle persone quindi ai soggetti che sono in totale 2879 persone delle quali 1784 femmine e 1095 maschi ai quali non viene data una definizione di incubo quindi viene lasciata una libera interpretazione in base a quello che è stata la loro percezione di quel brutto sogno e gli viene chiesto di raccontare l'incubo più recente prima però vengono fatte delle domande delle domande per capire anche qual è la frequenza di questi incubi e le risposte erano in tutto 7 quindi meno di una volta all'anno circa una volta all'anno circa dalle 2 alle 4 volte all'anno una volta al mese dalle 2 alle 3 volte al mese una volta a settimana diverse volte a settimana in questo modo si poteva fare anche un bel una bella tabella che comunque vi metterò qui da vedere ma che troverete sempre qua sotto in descrizione per cercare di capire anche quali sono i fattori comuni e se ci sono soprattutto dei fattori comuni per quanto riguarda la frequenza di questi incubi e come vengono percepiti e soprattutto anche riguardo ai temi e alle emozioni che hanno portato e a questo punto arriviamo alla parte importante se vogliamo insomma di questo studio e cioè la descrizione dell'incubo vedeva chiesto di descriverne ai minimi particolari tutto ciò che la persona era in grado di ricordare di quest'incubo cercando di prestare particolarmente attenzione alle persone coinvolte quindi chi o che cosa insomma avevano sognato che ruolo avessero all'interno del sogno qualsiasi tipo di dettaglio che potesse riguardare anche ad esempio l'ambientazione del sogno stesso e le emozioni che che gli hanno portato in modo tale da cercare di individuare quello che era il tema principale di quest'incubo perché c'è stato uno studio precedente che aveva trovato un certo numero di temi che erano associati agli incubi però loro in realtà ne hanno aggiunti degli altri perché come vi dicevo gli andava un po' stretta questa definizione di incubo che prevedeva soltanto quei sentimenti di paura e di pericolo senza considerare anche la rabbia o che comunque consideravano soltanto le cose che potessero accadere alla persona stessa senza considerare come incubi anche magari quei sogni dove ad essere in pericolo poteva essere una persona cara o che comunque le cose brutte in generale potessero accadere a qualcun altro se vi va di raccontarlo raccontate anche voi qua nei commenti quello che è stato il vostro incubo più recente sarebbe molto interessante comunque andare a spulciare tutti i vari incubi e vediamo un po' di quale categoria di quale tema fate parte approssimativamente il 16% delle persone che hanno partecipato a questo studio hanno riportato di avere una frequenza di incubi di più volte alla settimana mentre tutti gli altri bene o male hanno detto di avere avuto o di avere occasionalmente comunque degli incubi ma veniamo adesso ai risultati che sinceramente ho trovato molto più interessanti e cioè i temi i temi di questi incubi allora la maggior parte delle persone quindi siamo a 1076 fanno degli incubi abbastanza specifici quindi riguardanti un singolo tema concentrati proprio fissi su quello mentre sono 137 gli incubi che hanno un po' più di sfumature che prendono diverse emozioni ma ad avere la maggiore quindi a detenere insomma la coppa delle case sono gli incubi principalmente legati a un senso di impotenza e di fallimento questo soprattutto per quanto riguarda l'età adulta perché invece per quanto riguarda i più piccoli sono gli incubi più da essere inseguiti quindi il dover fuggire da qualcosa o qualcuno che ci sta inseguendo sempre per quanto riguarda l'età adulta ci sono sempre degli incubi legati agli incidenti piuttosto che a delle aggressioni fisiche mentre finalmente per quanto riguarda anche quello che era l'obiettivo di questo studio tutti quegli incubi che riguardavano il ferimento o comunque l'aggressione verso qualcuno era verso gli altri e principalmente verso i componenti della propria famiglia o comunque verso quelle persone con le quali si era particolarmente legati una piccola particolarità che ho trovato molto interessante è una differenza per quanto riguarda l'incidenza di questi di questi temi tra maschi e femmine perché ad esempio i maschi tendono a avere incubi molto più ricorrenti per quanto riguarda gli incidenti mentre le donne principalmente per quanto riguarda le aggressioni fisiche e in questo caso per quando queste aggressioni sono principalmente a sfondo sessuale sono di solito attuate da per quei casi in cui appunto viene riconosciuto anche l'aggressore da uomini mentre ci sono casi in cui non si riconosce il genere dell'aggressore oppure sono aggressioni avvenute da terzi da animali o da alieni ma diciamo che in generale il trend meno male rimane sempre quello tranne per tutte quelle persone che voi potete trovare nella penultima colonna che riguardano le percentuali dei temi degli incubi legati a chi ha incubi frequenti quindi chi le ha più volte ad esempio alla settimana nei quali si può vedere che ricorre principalmente il fatto di avere dei conflitti interpersonali rispetto invece al caso degli incidenti quindi queste due voci andrebbero switchate quindi c'è questo piccolo cambiamento per quanto riguarda invece le persone che hanno incubi più ricorrenti altri risultati che sono usciti da questo studio è che le persone che hanno una maggior frequenza di incubi sognano più spesso dei temi sociali mentre da studi precedenti noi sappiamo che i traumi subiti dalle persone non sono così incidenti per quanto riguarda gli incubi o meglio non si sogna a ripetizione effettivamente quello che è stato il trauma come può essere un'aggressione o un disastro naturale quindi non è che se io vivo ad esempio un terremoto cioè un terremoto io poi la notte sogno il terremoto a ripetizione ma sognerò l'emozione che io ho provato durante questo terremoto e poi la rielaborerò insomma in questi incubi assurdi perciò ci sta che anche i temi riportati dai nostri soggetti non corrispondano al 100% volendo neanche ai traumi che hanno subito tra tutti questi tra l'altro c'è un solo un 1% di persone che sognano di essere loro stesse gli aggressori e non le vittime e qui forse provano a spiegarlo dicendo che magari è perché loro hanno un'indole particolarmente aggressiva anche durante il resto della loro vita della loro giornata non che siano persone violente nella vita ma che hanno comunque in generale un'indole aggressiva un'altra correlazione che si è trovata sempre da degli studi recenti riguarda gli incubi con i sogni lucidi non so se avete presente sono quei sogni in cui tu sei consapevole di stare sognando e che quindi puoi intervenire questa la definiscono comunque un'ottima soluzione volendo anche per 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 affrontare un incubo vi lascio qua sotto in descrizione il link di una conferenza interessante del 2009 che parla proprio di sogni lucidi un altro studio cui fa riferimento nelle discussioni di questo articolo riguarda uno studio di pochi anni prima che va a guardare la correlazione tra incubo e suicidio questo è un articolo finlandese del 2001 che tra l'altro il primo studio che è stato fatto per cercare un'associazione tra gli incubi e le tendenze suicide ci saranno un po' di bip un po' di cose perché non posso dirlo esplicitamente però è uno studio molto interessante naturalmente è stato fatto in Finlandia è stato fatto in uno dei paesi con il tasso di sui di più alto appunto per poter cercare di capire se in qualche modo l'ansia che abbiamo visto nello studio precedente e gli incubi possano essere in qualche modo correlati anche con questi eventi drammatici i disturbi del sonno sono sicuramente un indice di un disturbo psicologico i brutti sogni sono diversi in realtà dagli incubi hanno una definizione leggermente diversa e gli incubi sono proprio quelli che ti lasciano questo senso di terrore sono un terrore reale sono dei sogni vividi che noi ricordiamo perfettamente che ci spaventano a morte e spesso sono anche una conseguenza di un disordine di stress post-traumatico in generale sia disturbi del sonno che appunto tendenze sono state registrate soprattutto in quei pazienti che soffrono di depressione grave o che hanno comunque problemi psicologici chiari anche chi registra molti attacchi di panico sono stati registrati diversi una maggiore frequenza degli incubi e in generale quello che era stato studiato è che il rischio o meglio l'incidenza di suicidio è molto maggiore in tutte quelle persone che hanno degli incubi almeno due volte a settimana e in generale è stato registrato un aumento del rischio di suicidio in tutte quelle persone che hanno incubi almeno due volte a settimana rispetto anche a chi appunto soffre di queste patologie e quindi si è pensato di provare a fare uno studio per cercare una correlazione tra incubo e appunto istinto suicido lo studio è iniziato nel 1972 e sono state seguite 36.211 soggetti dei quali 17.700 uomini e 18.511 donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e sono stati seguiti fino al 1995 o comunque fino alla loro morte e gli è stato chiesto di rispondere insomma ad un questionario o meglio gli è stato riproposto lo stesso questionario per circa 20 anni per cercare appunto di avere un quadro generale della situazione di queste più di 36.000 persone 159 sono appunto morte come riportato dal registro nazionale delle morti che è stato consultato per avere insomma tutti i dati dei partecipanti come nello studio precedente è stato chiesto quanto spesso si avevano gli incubi durante il mese passato quindi veniva riproposto ogni mese e le risposte erano tre frequentemente occasionalmente oppure per niente e in questo caso non è stata data una definizione di incubo quindi non è stato detto di cioè si è cercato di non condizionare le persone per evitare che magari non prendessero in considerazione quelli che per loro erano stati percepiti come incubi ma perché per qualche ragione non rientravano nella definizione diciamo accademica di incubo un'altra domanda che veniva chiesta riguardava dei sintomi più personali quindi di insonnia di depressione di stress semplicemente con una domanda simile a quella di prima cioè quanto spesso hai sperimentato insonnia umore depresso stress e ansia durante lo scorso mese sempre con le stesse tre opzioni quindi frequentemente occasionalmente o per nulla oltre a questi sono stati considerati anche l'uso di eventuali medicinali di antidepressivi e anche gli esami del sangue quindi in generale quello che è la situazione dello stato di salute generale dei partecipanti i risultati dimostrano che le donne avevano più erano più soggette ad avere incubi più frequenti rispetto agli uomini con una percentuale di 45,6% per le donne contro il 37,1% degli uomini per poi esserci in realtà un'inversione della situazione nel senso che con l'aumentare dell'età gli uomini tendevano ad avere molti più incubi e le donne invece di meno questa cosa in realtà non si è registrata per chi invece ha incubi frequenti in quel caso c'era un aumento legato all'età ed era bene o male indifferente sui due generi perciò in generale i soggetti che tendevano ad avere più incubi erano principalmente appunto donne di età più avanzata senza una relazione fissa senza impiego che consumavano molto alcol che fumavano tanto e che quindi sperimentavano nel corso delle giornate un umore più altalenante più ansia più stress e assumevano più medicinali antidepressivi mentre non è stata vista alcuna correlazione per quanto riguarda il colesterolo nel sangue che è stato un altro dei dati che sono stati presi in considerazione e l'abuso di caffeina evviva perciò i risultati ottenuti da questo studio è che c'è una correlazione lineare tra l'insorgenza degli incubi e il rischio di suicidio diciamo che era già stato fatto uno studio simile ma visto al contrario quindi nelle persone che avevano tentato o comunque avevano compiuto quest'atto quante di queste avevano degli incubi quindi insomma era stato visto al contrario mentre questo è il primo studio che ha cercato una correlazione inversa e cioè tra le persone o meglio quanto gli incubi influiscono sugli istinti sui e purtroppo è stato trovato che c'è una relazione e il denominatore comune potrebbe essere la presenza di un precedente trauma e dell'incapacità comunque di essere riusciti in qualche modo ad elaborarlo quindi ci potrebbe essere una situazione multifattoriale però insomma abbiamo visto come anche la scienza si sia e si stia adoperando per studiare meglio tutti questi casi di come gli incubi effettivamente vadano ad interferire con la nostra qualità di vita con la nostra vita o come la nostra vita interferisce con i nostri sogni perciò che dire l'incubo che diventa realtà la realtà degli incubi fa veramente paura ed è per questo che Nightmare rimane sempre comunque un film molto attuale considerando che Nightmare è del 1984 e questi studi comunque sono anche recenti fino al 2018 ma tuttora comunque si sta lavorando e si sta studiando sugli incubi e sui disturbi del sonno quindi ancora una volta siamo di fronte ad un reale problema ad un reale pericolo che è stato messo sul grande schermo e che la scienza corre in nostro soccorso per aiutarci a capire meglio come la realtà incontra la fantasia e in questo caso abbiamo visto che effettivamente gli incubi possono essere molto minacciosi per noi per la nostra vita per la nostra sanità mentale e abbiamo anche visto come quel caso di morti improvvise durante il sonno siano effettivamente reali che possano essere dati da un mostro dei sogni oppure da una mutazione di un gene che porta appunto ad aritmia ventricolare vabbè quello insomma vediamo diciamo che la seconda forse è meno teatrale però fa paura comunque va a fan bagno insomma anche per oggi è tutto io spero di non avervi annoiato troppo con tutte queste nozioni scientifiche che vi ho vomitato addosso in questo video spero possiate averlo trovato interessante tanto quanto il video sulla scienza di Vladimir mi raccomando fatemi sempre sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono anche questi questi video più scientifici e meno meno paurosi forse ma anche no da comunicatrice scientifica naturalmente io spero che questi video vi interessino perché a me piace molto andare a ricercare un po' quello che pensa la scienza di tutte queste cose poter leggere tutti questi articoli scientifici e potervene parlare e poterveli raccontare per ciò che dire se vi siete perse le scorse due puntate che erano meno tecniche per quanto riguarda la storia le vere storie di Nightmare li trovate sempre qua sotto in descrizione insieme a tutti i link di questi articoli perciò se non li avete visti mi raccomando andatele a recuperare lasciate un bel like se i video se questa saga vi è piaciuta e lasciatemi un feedback qui sotto nei commenti iscrivetevi anche al canale attivate la campanella e seguitemi sui social per non perdervi tutte le novità e tutte anche le dirette tutte una ne ho fatta se ve la siete persa la ho diretta su Instagram di martedì per sostituire il video che non è uscito perché era un po' ancora sotto sopra la potete trovare salvata sul mio profilo che trovate sempre comunque indovinate dove proprio in descrizione e questo è tutto noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo video ciao ciao ciao